video veloce veloce per farvi vedere come sbloccare dottor doom praticamente serve fare sei incarichi tutta la prima pagina perché per sbloccare la seconda pagina bisogna farne quattro della prima per sbloccare la skin serve fare sei incarichi poi con due incarichi ci dà il mantello con uno la schermata con tre la wrap con quattro il piccone con cinque il plano con sei appunto la skin e gli obiettivi bonus penso che siano in realtà anche gratuiti per chi non ha il pass e sono uno standard uno spray una emoji e un'altra e una schermata di caricamento abbastanza bruttini però insomma sono gratis e sono abbastanza facili ragazzi sopravvivi al danno da fuoco quindi il danno da fuoco dovrebbe essere qualche superpotere e oppure le robe esplosive spezza gli scudi avversari bisogna rompere lo scudo colpisci rocce o strutture di pietra raga rocce strutture di pietra insomma facilissimo danneggia gli avversari da oltre 44 metri questo magari si fa o con i superpoteri o con la pistola monarca che è un cecchino si equipaggiata col mirino accovacciati presso la statua celebrativa ci sono c'è questa statua qua residenza del ribelle e basta accovacciarsi quindi mettersi a gattoni e poi rilascia l'arsenale raga è semplicemente da equipaggiare l'arsenale di war machine i propulsori o la torretta uno dei tre non tutti e tre e si buttano a terra poi si sblocca la pagina 2 raga però diciamo che secondo me questi primi incarichi della pagina 1 sono i più semplici per sbloccare la skin ci fermiamo qui lei è cozzo ciao